Ragazzi quando io vado su Minecraft lo faccio per un motivo molto particolare L'ultima volta eravamo ritornati su Minecraft per mostrarvi un iPhone X funzionante in modo perfetto Oggi siamo qui perché ho scoperto ragazzi che esiste la modalità Battle Royale di Fortnite su Minecraft Potevo io non farci un video? Ovviamente ragazzi eccomi qua a fare un video su questa modalità Modalità che si trova in questo server ragazzi che si chiama TheLegendCraft E prima che mi scrivete ma chi IP ha il server? Vi metto l'IP del server qui, qui, questo qua E poi ve lo lascio anche qua sotto in descrizione quindi non mi scrivete ma che IP è il server Dato che ve l'ho scritto sia in video e lo trovate in descrizione quindi qual è l'IP del server E quindi noi ovviamente siamo all'interno del server TheLegendCraft Che ovviamente non ha solo la modalità di Fortnite che qui si chiama FortCraft quindi ci sta ci sta Ma ha varie modalità questa intanto è la lobby E qua ci sono le modalità abbiamo la New Hope Prison pronta ad evadere dalla prigione Cosa aspetti? Entra e guadagnati la libertà scavando in miniera Lucky Sky Grid, poi abbiamo la Block Last, la Sky PvP, la Vanilla, classica La FortCraft che è quella che andremo a giocare adesso La Bed Wars è la più importante che è la Coming Zone ragazzi Non è vero ovviamente La modalità che interessa a noi è la FortCraft Modalità PvP con armi speciali Fai bottino velocemente, equipaggi ti pianifica i tuoi attacchi Eppure entriamo e clicchiamo nella modalità FortCraft Qui ovviamente è la lobby per partita Abbiamo tutte le top win, le top kill, le top terti Ovviamente non ci sono perché sono scarso come lo schifo Anche qui non sono solo scarso su Fortnite Sono scarso anche qui ragazzi È una cosa impressionante, non sono bravo in nessun gioco Comunque entriamo, questa è la lobby per partita per la modalità FortCraft E ci troviamo davanti questa roba fantastica Che è un burro Possiamo leggere Come guadagnare punti? Uccidi i tuoi avversari Ogni tot minuti in partita li riceverai Cosa sono le armi speciali? Esplorando la mappa in partita Troverai delle zucche Cliccando su DS potrai poi ottenere armi speciali per uccidere i tuoi avversari Quindi queste zucche in sostanza sono le chest di Fortnite E mi chiedo perché non abbiano inserito le chest Dato che in Minecraft ci sono Non lo so ragazzi Non stiamo qui a chiederlo Lo chiederemo dopo agli sviluppatori del server Una volta startata la partita ti troverai in aria Per volare ti basterà tenere premuto la barra spaziatrice Avrei pochi secondi per atterrare Perché ovviamente dobbiamo droppare sulla mappa Nell'inventario avrai i seguenti items Piccone per distruggere le strutture dei tuoi avversari Ma non si possono farmare i materiali Purtroppo Cavolo Ma ci sta perché altrimenti staremmo a spaccare tutta la mappa Quindi muro, pavimento e scale Per costruire le nostre strutture Per poterci difendere dagli attacchi nemici Ogni volta ricostruire le strutture ti verranno scalati i punti nella scoreboard Quindi ogni volta che costruiamo una struttura Ci verranno scalati i punti nella scoreboard Che comunque si ottengono man mano che rimaniamo in vita Poi, ok, possiamo spendere i nostri coin E possiamo upgradeare il piccone per spaccare le strutture in modo molto più veloce Quindi possiamo tipo spaccare le strutture dei nemici in modo instant Possiamo comprare le varie armi E qui possiamo anche upgradeare le build Quindi le nostre costruzioni vanno sostanzialmente una vita maggiore Poi possiamo fare anche slash bui in chat E possiamo comprare volendo il pass battaglia Come su Fortnite Proprio paro paro Ragazzi, ovviamente io non compro niente perché sono un povero di merda Ma mi sono rotto il cavolo E andiamo a giocare Qui ci sono nove player online Incredibile, andiamo in questa Ok, questo lag iniziale ragazzi è normale Non preoccupatevi perché sta scaricando Quindi si sta spaccando il vetro Iniziamo 3, 2, 1 Ok Ok, ci siamo Noi possiamo droppare ovviamente tenendo premuto col nostro elit La sono attirato in un posto di merda Ovviamente Ecco qua Mi sono fatto male? No, perfetto Quindi cosa dobbiamo fare adesso ragazzi? Dobbiamo cercare le zucchie Ah, qua, eccola qua Ok Abbiamo preso lo sniper ragazzi che è un burro Cioè guardate qui che figata lo sniper E poi abbiamo due sniper Perfetto ragazzi, due sniper Abbiamo avuto culo a sto giro Ok, quindi abbiamo due sniper Ragazzi la uccide Ah Oh Oh No, no, no Headshot No ragazzi aspetta, aspetta State buoni, state buoni un attimo State buoni un attimo Dicene un altro Ricarichiamo Con l'accusi ricarica Esatto Aspettate un attimo No Pezzo di merda No Ragazzi ragazzi state buoni State buoni, state buoni, state buoni Me lo snipero, me lo snipero Cos'è sta cosa? È solo una sega primordiale Cavolo Ok ragazzi Dobbiamo, 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 dobbiamo cogliere di sorpresa Lui non si è accorto che noi siamo qui Ma noi ci siamo accorti di lui Ah, si è accorto Ha fatto il muro Noi facciamo delle scale Ragazzi facciamo delle scale Ok, eccole qui Così ci sopraeleviamo L'ho hittato Non ci credo Non ci credo Ragazzi non ci credo Non ci credo Un attimo Headshot No sto sto sognando Ragazzi Sono rimasti sette in vita Sette in vita Tra l'altro qui possiamo controllare Aspetta mettiamoci Questa è stata aperta MG Sì, questa è probabilmente Ah, sì, è stata aperta Spunte chat Qui possiamo Guardare la mappa Zoomare E dezoommare Per vedere Dove si chiude la safe Cioè guardate quanto è grossa la mappa Oltretutto Ok, quindi noi siamo qui Nella safe Pian piano Si va chiudendo Però ragazzi Mi serve anche un fucile a pompa Perché Non Con un cerchino Io non mi sento molto sicuro Quindi possiamo atterrare un po' Dove vogliamo Guardate che Possiamo praticamente Jumpare un po' ovunque Certo Ah No Bastardo Proviamo a fare un'altra partita ragazzi Non è un problema Dobbiamo Dobbiamo vincerla Dobbiamo provarci Comunque apriamo questa cassa ragazzi Prendiamo le armi Cosa abbiamo? La flashbang E Uh Tipo una specie di AR Lol Top E la flashbang Che cazzo serve? Quello che Oddio ragazzi Era sopra c'è un nemico Quello che dobbiamo fare È adesso ammazzarli La safe si sta riducendo Ovviamente possiamo Oh un'altra cassetta Ragazzi Un'altra cassina Cosa c'è la flashbang? La K47 La madonna Ho una K47 in mano Non ho paura di utilizzare Ok andiamo qui Prendiamo sta cassa Vediamo cosa troviamo Di nuovo la flashbang Oh altre due flashbang Hanno rotto il cazzo Non mi piace una flashbang Via Comunque La safe dove si sta chiudendo Ok guardate la safe Dove si sta chiudendo Cioè si sta iniziando a chiudere Ragazzi ma che cosa si sono buildati là? Oh what the fuck Perché hanno fatto sta build? Comunque vi faccio vedere come si può costruire Abbiamo 1600 punti Quindi noi per fare le scale Così E ci scalano i punti E possiamo ovviamente buildare Tra l'altro una tecnica che userò ragazzi Quello che ha fatto lui Vi faccio delle scale Così uso l'elitra E vado in alto Ok Sperando non mi amma Non ci sto credendo Non ci sto Ok ragazzi Vediamo di troppare In un punto un po' più decente Questa volta Ok Ok Andiamo Andiamo su questo tetto Raga Su questo tetto Non è vero Su questo tetto Su questo tetto Va bene comunque Va bene comunque Qui c'è la cassa 10 secondi 10 secondi Spero di trovare un cecchino Perché sono veramente in alto 4 secondi E posso aprire la cassa La posso già aprire? No ancora no 1 Ok vai Flashbang a K46 Flashbang via Oddio quello che è raga Ma dove siamo? A boschetto Che c'è il campo da cassa Oddio No Ma che coca What the fuck Mi ha acquittato Ma tristissimo sei Fratello Ok vediamo di trovare Un bel fucilozzo a pompa Qui siamo praticamente A Fatal Fields Raga guardate che Oddio lì che hanno fatto Guardate qui Che ci sono i due silos Di Fatal Fields Loll L'ho visto Oddio l'ho preso Morisce Morisce No devo ricaricare Gang Devo ricaricare Raga perché ovviamente Le armi devono ricaricare Infatti adesso No ma che burro C'è pure animazione Sto stognando Guardate che si stacca il caricatore Si mette quello dentro Non ci sto credendo Ok ragazzi Ho tutto ricaricato Tutto ricaricato Perfetto La carabina praticamente A colpo singolo Andiamo di high ground Guadagniamo un po' di high ground Ok siamo abbastanza high ground Adesso costruiamo ragazzi Facciamo un mura Ok un altro Ok E un altro Top Facciamo le scale Così Top raga Mi sono fatto un fortino Mettiamo il muro così Bomba Bomba Sono in safe Che sono anche in safe Quindi ragazzi Mo me la campero E aspetto il nemico Chi sa dov'è Intanto guardate la safe Che avanza Cioè guardate E' una figata Cioè ragazzi Vi dico che è uguale Cazzo è uguale Però la safe Ce l'ho in culo Safe Safe Fermati Fermati Si ferma Non si ferma What the fuck Fermati Safe del cavolo Non si ferma Ragazzi 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 sono morto Allora A umore quello di safe O non lo so Ah si è fermata Ok si è fermata Ragazzi Andiamo di nuovo All the ground Di nuovo all the ground Perfetto ragazzi Mi sono affortinato Come lo schifo Oh No Ma da dove sono morto Ma da dove sono morto Ma da dove Ma non esiste proprio Ma dov'era Ma mi stavo affortinando Caspita Quindi ragazzi Per questo video Su Fortnite In Minecraft Era tutto Non abbiamo vinto Ma è veramente difficile Cavolo È veramente Veramente difficile Vi spero che come sempre Il video vi sia piaciuto Vi lascio il link Nel server qua sotto In descrizione Qualora vogliete provare Questa modalità Se volete un altro video Su questa modalità Arriviamo a 20.000 mi piace Sotto a questo video Da Jumpy Tech è tutto E ciao ciao